Quarezzo e Cremonese Lumezzano. Ecco qui le immagini che ci portano in Riva al Lago di Como per Como-Alessandria con la vittoria di misura della squadra di casa, proprio per 1-0 la rete del successo che arriverà dopo questa occasione sprecata malamente nel primo tempo al 25esimo il gol della vittoria che verrà realizzato da Riva. Alessandria che comunque non ha rinunciato a proporre le sue controoffensive. Una vittoria peraltro importante in chiave prodotta per la salvezza per il Como. Vediamo adesso andare in gol con Riva. Diciamo che il minuto è quello del numero 25 nel primo tempo, attenzione a questo intervento, il gol è questo qui, insomma davvero un pasticcio difensivo incredibile dell'Alessandria. Sì, probabilmente il difensore voleva accompagnare la palla verso l'out dietro la porta, è stato bravissimo a chiederci finire il giocatore del Como, un'Alessandria che porta fortuna al Como perché già come era successo l'anno scorso, ma nel play-off aveva avuto modo di vincerli e di vincere il campionato. La seconda vittoria casalinga quest'anno per il Como veniva da tre mesi, quindi tre punti sicuramente importanti che la portano un pochettino. Che danno a respirare, sì, fanno respirare un po' anche se il Como resta in zona, ai margini della zona play-out con appena preceduto di una lunghezza appena dal Monza che è a quota 25.